I biscotti di Nina e Olga Ingredienti Zucchero Farina Sale Uova Burro Vaniglia Lievito per dolci Buccia d'arancia Cioccolato bianco Procedimento Unisci zucchero e burro in una ciotola Aggiungi sale, arancia e vaniglia Mescola Aggiungi un uovo e mescola Aggiungi un altro uovo Aggiungi un altro uovo Aggiungi un tuorlo E uno Aggiungi un altro tuorlo E due Aggiungi lo lievito Aggiungi la farina Mescola Mescola Spolvera in piano da lavoro Lavora l'impasto con le mani Aggiungi un altro uovo Aggiungi un altro uovo Stendi l'impasto. Utilizza il memory di Mina e Olga. Ritaglia la sagoma di Olga. Crea delle nuvole con l'impasto. Rimuovi la pasta frolla in eccesso. In forna. Ricopri i biscotti di cioccolato bianco. Per finire utilizza le gocce di cioccolato. Perfetto. 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 Grazie a tutti.